L'ultimo Il nostro è uno sport molto duro ma se rispettiamo le regole diventa uno sport come tutti gli altri Uno, due, tre Io posso passare la palla verso la mia area di meta L'ultimo Portiamo rispetto ai più anziani e rispettiamo i giovani sempre Vedo il suo impegno, dico va bene ha sbagliato questa, la prossima non sbaglierà Ragazzi Avete voglia di andare fuori? Sì! Abbiamo voglia di andare fuori a fare un po' di battaglia con questi? Sì Avete voglia o no? Sì Vai ragazzi, show! Sì 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 Sì